Insomma, dove hai messo le ali? Mifty, io non ho le... Io ritengo che il suo grosso problema non sia la mancanza delle ali, piuttosto la mancanza delle tette. Sì, dove hai messo le tette? Oh, avete altre domande? Io ne avrei una. Perché ogni volta che Charlie ha un incontro con il Paradiso, noi finiamo nella merda più merda che mai. Non è colpa sua. Gli angeli sono... Bogiardi. Complicati. Ma Charlie sta facendo del suo meglio. Sì, beh, il suo meglio è... di certo il nostro peggio. E a proposito, dove diavolo è finita, signorina Felicità Tralala? Non si è ancora tuffata il capofitto in un altro piano votato al fallimento? È di sopra. Hai scogitare una soluzione. Nella nostra camera. Da sola.